Il deputato Angelo D'Agostino ha presentato una proposta di legge finalizzata a superare i problemi emersi nell'utilizzo dei washer per il pagamento dei lavoratori impiegati nelle aziende agricole. L'obiettivo, fa sapere il parlamentare Erpino, è quello di rimediare agli effetti paradossali determinati, in particolare dal limite eccessivamente basso dei 7.000 euro di volume di affari. Superato tale limite, le aziende agricole non possono utilizzare i buoni lavoro per il pagamento dei lavoratori occasionali, a meno che gli assunti non siano studenti, cassi integrati e pensionati. Il limite dei 7.000 euro, spiega D'Agostino, è decisamente basso e quindi diffusamente superato dalla quasi totalità delle aziende agricole, che pertanto sono costrette a stipulare i contratti di lavoro subordinato, anche se solo per pochi giorni di lavoro, ciò con un aggravio enorme in termini di costi e burocrazia. È doveroso e giusto combattere l'abuso dei washer, ma è evidente, osserva il deputato, che con le disposizioni in vigore si è passati da un eccesso all'altro. Non a caso, molte aziende e tante associazioni di categoria hanno avuto modo di esprimere tutto il loro sconcerto per una norma che penalizza i giovani disoccupati e, paradossalmente, favorisce quel lavoro nero che invece dovrebbe combattere. Con la mia proposta di modifica della legge attualmente in vigore, chiude D'Agostino, il limite di 7.000 euro di volume di affari viene portato a quello più ragionevole e adeguato di 50.000.